Sono Pietro Iroldi, faccio l'architetto, lavoro a Palermo e per la mostra di disegno, in particolare per la mostra analogico-digitale, presento due pezzi, due mobili della serie Playwood, sono dei mobili tagliati col pantografo al contorno numerico, sono dei mobili ispirati al concetto di autoprogettazione in chiave contemporanea e sono dei mobili assemblati al secco che vengono poi legati da delle cinghie colorate.